Benvenuti a questa nuova puntata del programma La farmacia della poesia, Incipit Sistema Comunicazione. Se devo dire cos'è per me la poesia, allora dico che è presenza, anima, essenza, E' il linguaggio della natura, ossimoro che cura, sguardo che evolve, parola che assolve. Oggi parleremo di un argomento interessante e profondo, che sicuramente interessa e colpisce molte delle persone che hanno praticamente fede. Parleremo del santuario della Madonna di Polsi. Ci si chiede spesso che cos'è la fede e qualcuno risponde. Bisogno del cuore? Elaborazione della mente? Espressione dello spirito? Le ragioni della fede sono molteplici. In origine questa parola voleva semplicemente significare fiducia. Con l'avvento del cristianesimo, invece, ha assunto un significato diverso. Ha significato di abbandono totale alla religiosità. A tal proposito potremmo dire, quindi, che la fede dovrebbe essere a critica. I credenti la ritengono dono di Dio agli uomini. Gli antropologi parlano di un fenomeno culturale. Il termine di religiosità popolare, nel documento di Medellin, viene così definita. La religiosità popolare è una religiosità di voti, di promesse, di pellegrinaggi e di un'infinità di devozioni. L'itinerario del pellegrinaggio, come interpretazione psicologico-folclorica, racchiude le più vive e radicate espressioni che costituiscono le tradizioni popolari tramandate attraverso i secoli, in un patrimonio culturale di usi, costumi, mestieri e feste. Il pellegrino, infatti, è l'homo viator. Cerca di entrare in contatto con la divinità e, se in chiesa lo fa per mezzo della fede, nel pellegrinaggio lo fa per mezzo del cammino. La devozione e la fede dei pellegrini nei confronti del santo era, ed è legato spesso, alla sua capacità di fare miracoli e alle preghiere che riusciva e riesce ad esaudire. La gente aveva e ha tuttora un rapporto diretto. Pagavano e pagano con i voti e in qualche modo possono chiedere. La storia dei santuari calabresi è stata influenzata anche dalla concezione del centro, elaborata dall'uomo nel corso del tempo. Alcuni studiosi sostengono che il centro, nell'antichità, era un punto fisso, assoluto, come un carattere totalmente sacro. Fungeva da orientamento per il futuro e dava l'idea dell'ordine e dell'autorità. In Calabria lo spazio incolto e le zone accidentate sono state da sempre i luoghi privilegiati della ierofonia, perché, meglio di ogni altro luogo, soddisfacevano il desiderio dell'uomo di ritrovarsi al centro del mondo e a contatto con la divinità. L'evento mitico di fondazione dei luoghi sacri muta nel corso del tempo. In Calabria la maggior parte dei santuari mariani è nata in passato e in seguito al ritrovamento di immagini della Vergine Maria scoperta per caso nelle grotte. Il cacciatore, infatti, che inseguiva il cinghiale o il pastore che cercava la capra smarrita, giungeva alla scoperta dell'icona, a volte dopo un avvenimento meraviglioso come una visione oppure una luce improvvisa. Tra i santuari più celebrati in Calabria dalla tradizione popolare ricordiamo sostanzialmente quello della Madonna di Polsi. Il santuario della Madonna di Polsi, o Madonna della Montagna, si trova presso la frazione di Polsi, comune di San Luca, provincia di Reggio Calabria, nel cuore della Spromonte. Nel periodo tra primavera e ottobre la vallata si popola di una grandissima vastità di pellegrini che vanno proprio appunto a rendere omaggio alla Vergine Maria. Sulla Madonna di Polsi si raccontano diverse leggende e una è proprio questa. La leggenda narra che nell'undicesimo secolo un pastore di nome italiano, oriundo della cittadina di Santa Cristina da Spromonte, intento a cercare un toro smarrito in località di Nardello, scorse l'animale che disotterrava una croce di ferro. Gli apparve quindi la Beata Vergine Maria che così gli disse Voglio che qui si erga una chiesa per diffondere le mie grazie sopra tutti i devoti che qui verranno a trovarmi. C'è un'infinita quale mai sarà il valore che darà la tua anima o la mia, farmacia della poesia. C'è un'insolita magia in cerca lungo la via, mollica cade da tovaglia, muore di formica appaglia, generosa e molto grata. Il fatto l'ha trovata, la tua anima affadata, buon sia la risvegliata, dietro le tue angosce, adesso riconosci la tua diversità, dentro la fragilità. La bella è il caramaio, la formica è il formicaio, mentre ti commuovi la forza tua ritrovi. Senti a piedi fiduciosa, giunge a cura generosa. Eccoci, cara Rosi, sto per andare a polsi e prima di partire volevo la tua benedizione, ma soprattutto il tuo augurio per questa gita, che non è una gita, ma è un vero e proprio pellegrinaggio nel cuore della spiritualità vera, sacra della Sfromonte. Quello che io sento in questo momento di dire è che c'è bisogno, è solo di pregare per tutti noi e di darci questa pace dentro, di ritrovarci. Bene, bacino di benedizione. Certo. Allora si parte? Si parte. Ti sei portato la tua figliola? E come si chiama? Rossana. Ciao Rossana, benvenuta. Grazie. Senti Davide, volevo chiederti questo. Prego, prego. Qual è il tuo augurio per questo pellegrinaggio che stiamo per fare? Dunque, l'augurio è che sia un bel viaggio perché poi è un viaggio abbastanza diciamo avventuroso e niente, andiamo a vedere quello che c'è e insomma speriamo che sia una bella esperienza. Cosa ti aspetti? Mi aspetto di rimanere colpito favorevolmente e che trovi pure certe cose che magari altrove non si riescono a trovare. Grazie, grazie Davide. E allora siamo qui, abbiamo alla mia sinistra Rossana appena tornata da Ruanda in Africa e ora con lei stiamo andando a Polsi, il santuario di Polsi. A lei chiediamo, Rossana, che cos'è per te Polsi e perché ci stai andando oggi? Per me è anche questa una prima esperienza perché non ci sono mai andata, quindi sarà anche questa un'esperienza nuova e cercheremo di scoprire il bello anche di questa esperienza qua. Mi aspetto una realtà che magari ce l'abbiamo sotto gli occhi ma effettivamente non conosciamo. E sono curiosa di venire a conoscere di questo perché fa parte della nostra storia. Ci siamo, siamo sulla strada per Polsi, abbiamo già fatto un primo pezzo di strada. E' veramente magico i posti che si attraversano, la vegetazione che si vede e anche la ricchezza di tutto quello che è la pulizia dell'aria. Adesso siamo su questa strada e proseguiamo ancora per circa mezz'ora, tre quarti d'ora fino ad arrivare al santuario. Ci vediamo fra poco. Ciao! Ehi, da dove sta arrivando? Io sto arrivando dalla Madonna di Polsi. E perché ci è andato? Ci è andato perché noi facciamo praticamente servizio quasi da quattro anni a questa parte. E che cosa la spinge a fare una cosa così bella? Più che la devozione, l'accoglienza che ho avuto da quelle persone, del posto, contrariamente a quanto si dice nei telegiornali e nei video, a quanto raccontano i video. In fondo apparteniamo tutti a luoghi così belli, questa bellezza ci appartiene. E se dovessi dare una parola a quello che più di tutti mi colpisce attraversando questa strada per arrivare al santuario, direi struggente, la bellezza struggente delle rocce che fanno da base alle querce secolari, con piante selvatiche come il melo, il pero, l'ericarborea, il lentisco, il mirto, le more selvatiche, ma è tutto un insieme di piante e di rocce che rendono questo attraversamento particolarmente toccante. Non ti lascia così inalterato questo passaggio, questo percorso. Ti tocca e arriva alla parte più selvaggia del tuo animo. Io vi saluto, bella reggina, grazie a misericordia a voi stamattina. Io vi saluto, reggina sagrada, grazie a misericordia a voi stamattina. Perché le che non vengono, non le dimenticate, sempre chiamate, chiedi reggina di la pace. Perché le che non vengono, non le dimenticate, sempre chiamate, chiedi reggina di la pace. Perché le che non vengono, non le dimenticate, sempre chiamate, chiedi reggina di la pace. Lei che è sempre così scherzosa, leggera, leggiabra e ha un sorriso per tutti. Ci vuole dire in pochissime parole l'essenza che questo luogo per lei rappresenta. Mi sento a pieno, in pace, mi sento veramente figlia di Dio tra queste montagne, tra questa gente, con la mia comunità, con i miei amici, con il sorriso della gente semplice. E' veramente un luogo come tutti noi abbiamo da dire, è un luogo magico, che ti dà poi una carica incredibile. Io sono qui oggi e già penso all'anno prossimo quando devo ritornare. Perché non esserci ti manca. Qui è un luogo mistico perché essendo un luogo dove si prega, un po' si riscopre anche se stessi, si riscoprono tante cose che magari durante l'anno non vengono messe in risalto e qui riesci a ritrovare un pochino te stesso, la tua persona, con le tue paure, con le tue contraddizioni, ma che poi si trasformano anche in speranza, fiducia, voglia di fare, di continuare, voglia di vivere, voglia di fare sempre qualcosa di buono, di positivo. Vorremmo chiederle cosa significa per lei essere qui. Sinceramente come prima immagine che mi viene in mente è proprio il volto della Madonna. Perché lo ritengo un volto bellissimo. E poi questa regina, perché praticamente porta anche una corona, non ha un trono, ma una semplice sedia. Per cui questo contrasto tra questa magnificenza, insomma, la corona d'oro che esprime grandezza, qualcosa di veramente grande, e questa immagine di questa donna che porta in braccio un bambino seduta su una sedia che accoglie migliaia di pellegrini, esercita una forma di attrazione veramente incredibile, è come una calamita che attrae migliaia di persone. Ecco perché ogni anno ci ritroviamo qui senza sapere il perché, come se fossimo spinti da una forza sconosciuta. Per cui abbandoniamo sempre i nostri problemi, i nostri impegni, proprio per ritrovarci pochi giorni, ma vissuti in maniera intensa. L'essere qui è sentirmi me stessa, libera. È un luogo proprio che ti prende dentro, dove ti dà una carica, un'energia non normale. Quando si torna poi giù da qua e senti proprio carico, pulito, puro. L'essenza della vita per me è cinta da queste montagne così forti, così imponenti, che noi chiamiamo Aspromonte, ma in realtà non è un Aspromonte. È un senso di accoglienza, di protezione. È stupendo, essere qua è qualcosa che spero che la Madonna ci aiuta a tornare finché ce la facciamo. Troppo bello. È una bella esperienza e invito tutti quelli che non l'hanno fatta a venire qua e alla Madonna di Possia. È indescrivibile, perché quando vieni qua ti dimentichi di tutto e dai tutto il tuo amore agli altri. aiuta agli altri, fai nuove conoscenze, nuove esperienze. Sì, è nulla, diciamo. Ed è bellissimo. Queste sono le pochissime parole in cui si può riassumere la nostra esperienza. Che cos'è che l'ha emozionata di più in assoluto? Vedere effettivamente, toccare con mano questa, come posso dire, questo desiderio che questi pellegrini hanno nel farsi i chilometri durante la notte, in temperie, con il sole, belle giornate, pioggia, solo per stare dieci minuti a pregare con la Madonna. Accanto a me, Don Tonino, rettore di Polsi, di questo santuario magico, mistico, a cui vogliamo rivolgere poche, semplici domande, anche perché il tempo è poco. Siamo le giornate della festa, bisogna dedicarsi a mille e più cose. Alcune si programmano, altre arrivano momento per momento, credo. Ora, a Don Tonino, che è qui ormai da quanto tempo? Due anni. Due anni. Vogliamo porre una domanda diretta e precisa. Don Tonino, cos'è l'anima di Polsi? Cosa anima questo incredibile magnetismo e questo fervore devozionale commovente e toccante? Ma penso che innanzitutto il luogo stesso, il luogo in cui si trova, dà a chi arriva un senso di profonda spiritualità, di profondo benessere interiore, per cui la bellezza di questo luogo è appunto il silenzio, il silenzio, la spiritualità, l'accoglienza, la possibilità veramente di incontrare Dio. È un luogo, secondo me, privilegiato per incontrare il Signore. E tutto questo fa di porsi, a mio avviso, un luogo unico. Quindi, chi vuole veramente trovare un momento di silenzio interiore, di preghiera interiore, penso che Polsi sia il luogo più adatto. Grazie Don Tonino. E vogliamo chiederle una domanda intima, ma che lei può, che ha la facoltà anche di rispondere o di non rispondere, la cosa che più di tutte in questi due anni l'ha colpita, commosta, toccata? I pellegrini. Io dico sempre che il vero volto di Polsi sono i pellegrini. Perché i pellegrini arrivano qui con tanta devozione, arrivano qui con tanta fede, arrivano qui con tanta speranza. Perché è gente che soffre e quindi raggiunge Polsi per avere una speranza. E quindi i pellegrini sono coloro che fanno capire che cosa è Polsi. Quindi non tutto quello che si dice, ma quello che si vive. Per conoscere Polsi, a mio avviso, bisogna venire qui a Polsi. E vivere quella che è la quotidianità, quella che è il contatto con la gente, quello che è la sofferenza della gente. questa è la cosa che mi ha colpito di più, la devozione, la fede di questi pellegrini che arrivano qui a Polsi. Ha un'immagine particolare che le viene in mente? Ma ce ne sono tante, devo essere sincero. Durante due anni ho avuto modo di fare diverse esperienze. forse due in modo particolare. Il primo, non togliendo nulla alle altre carovane che arrivano qui a Polsi, è quello che fa più effetto anche a livello emotivo è la carovane di Messignale che sono 300 giovani che arrivano qui a Polsi cantando, piangendo ed è molto emozionante vedere 300 ragazzi, ragazzi e ragazze che sfilano per andare a salutare una donna piangendo. Questa è un'immagine molto bella. Come molto bella e anche significativa è la gente che arriva più a Polsi in ginocchio per chiedere le grazie o per ringraziare la Madonna. Sono due immagini diverse ma che dicono cosa è Polsi. Che cosa chiede alla Madonna di Polsi per questi giorni di festa che stanno arrivando? Ma quello che chiede non è soltanto per questi giorni. Lo chiedo per diciamo per sempre che era la gioia che dia gioia alla gente che dia speranza alla gente che dia forza alla gente ecco la nostra gente ha bisogno di speranza e un popolo scoraggiato per tanti motivi. Allora chiedo alla Madonna che dia a tutti noi una speranza che non devude che è una speranza che ha un nome ben preciso che è Gesù Cristo. Salutiamo chi ci sta guardando e a loro cosa vogliamo augurare? Auguriamo ogni bene sicuramente e ogni benedizione da parte della Madonna che la Madonna possa esaurire tutte le grazie che avete dentro il cuore. E per concludere questa puntata direi che le parole le abbiamo esaurite perché comunque sono bastate solo le immagini per raccontarci tutto quello che volevamo dirvi. Grazie e alla prossima puntata. Farmacia della poesia La pella e il calamaio La formica e il formicaio Mentre ti commuovi La forza tua ritrovi La pella e il calamaio La formica e il formicaio Mentre ti commuovi La forza tua ritrovi Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia farmacia della poesia La tua anima alla mia farmacia della poesia Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia farmacia della poesia Quale mai sarà il valore che darà la tua anima alla mia farmacia della poesia la mia la mia farmacia la mia la mia Grazie a tutti